Ragazzi, ma qui a Sanremo abbiamo sempre fatto parte dell'arredamento noi, perché ci siamo sempre stati. Adesso io sono rientrato, mi mancavo da quasi quattro anni, Marina manca da un pochettino di più, era ingiovanita, per cui va bene così. Mi sono messa in natalina. Eravamo nel 1967, quattro ragazzotti un po' sgangherati, ci univa la musica, ma soprattutto ci ha sempre unito una grande amicizia. Poi col passare degli anni c'è stato qualche inciampo durante la nostra vita, cose che succedono, chi a un modo, chi all'altro, però dato che siamo stati tutto sommato degli inguaribili romantici, idealistici. Io ho sempre pensato, siamo partiti in quattro e dobbiamo arrivare in quattro. E' nutre che Fiorello cerchi di infilare, non c'è niente da fare, siamo quattro fiori. vuole fare il quinto. Non abbiamo mai cambiato noi, da quattro in tre, non abbiamo mai tradito l'altro e da tre siamo rimasti in due e adesso era il momento di tornare in quattro. Io ho molto piacere di essere venuto e di aver portato il mio coro qua, così, infatti, va bene. Dai ragazzi, l'amicizia è uno dei pochi valori che ci rimane in questo mondo complicato, in questa Italia un po' sgangherata. Quindi, diciamo che per noi è come se fossimo una seconda famiglia. La prima, ognuno ha la sua, questa è la seconda, avere due famiglie. Ragazzi, è bello. A Genova dicono che è un po' complicato perché costano anche... Ragazzi, il genovese DOC tutti gli anni fa un viaggio in Scozia per aggiornarsi sulle tecniche dell'esparmio. Quindi, noi non lo facciamo, però va bene così. Ma ci aggiorniamo comunque. Io ho conosciuto Marina, che aveva quanti anni? 15? 15 anni. Quando ci siamo noi, 14. Aveva 14 anni, pensate un po' quanti anni. Era una ragazzina bellissima, con i capelli lunghi, con i calzini, avevi i calzini piani? Parli di me. No, parli di Marina, non di te. Insomma, ci conosciamo da una vita, veramente. Abbiamo anche delle fotografie che abbiamo tirato fuori, che c'era un po' di polvere, l'abbiamo tolto. Che via, ne facevamo la maglia. Poi la foto è bellissima, ci facevamo i maglioni, facevamo la gara. Quando eravamo in tournée, ti ricordi? Nelle pause della tournée tiravamo fuori i ferri. Con gli aghi. Perché allora non c'era il cellulare, non c'era niente. E poi, tu lo fai meglio di me, ma come hai fatto a calare i punti qua, mi insegni? Ma pensa, stiamo parlando di una reunione, parliamo di maglioni. È bellissimo. E vabbè, ci sta. All'inizio ci siamo riformati da un'idea, come diceva Angela, di Danilo. Ma non era un progetto chissà che cosa faremo. Noi volevamo riunirci, stare insieme, registrare un disco. E poi è nata dopo la situazione che Danilo ha parlato con Amadeus. della partecipazione di Sanremo, ma non erano le nostre previsioni. Come adesso, non sappiamo cosa faremo. Ci sono mille idee. E poi ti devo dire la verità, che sarà. Sarà quel che sarà. E poi avete una grossa richiesta. Sono presentata a Sanremo con la cosa di uscire, volevo uscire dal gruppo io. Può capitare nella vita di avere delle esigenze personali che portano a delle decisioni. Quindi mi sono presentata, è stata istituita però questa... Mi sono presentata per uscire, ho capito. Allora è stata presentata, formata questa giuria, nella quale tu eri presidente, mi pare così. E mi avete fatto cantare, dicevo, ma l'occhino, vediamo un po' se potrebbe cantare stasera o no. Avete detto, sì sì, per noi può cantare, ma io a quel punto ho detto, ma io non voglio cantare stasera, io voglio uscire. Perché avevo delle cose mie per cui avevo voglia di uscire. E tutto lì, ecco, loro sono andati avanti in treno, sono stata felicissima che abbiano avuto grande successo. Dopodiché sono stata fuori per 39 anni e per me adesso, che si è presentata a quest'occasione con Danilo Mancuso, che è venuto a trovarmi a casa mia e mi ha fatto questa proposta, mi ha proposto il progetto. E quando lui, scusami, quando lui me l'ha proposto, mi ha illuso, ha caricato la testa di che cosa, non si sa di cose folli, professionali. Ma mi ha detto, io non lo so che cosa succederà, però se anche non dovesse succedere nulla, la cosa più importante è che abbiamo ricucito questo strappo che c'è da troppo tempo. Allora io ho deciso di entrare e di fare di nuovo, di partecipare e di ritrovare l'amicizia con loro, che sono la mia famiglia, la mia famiglia di casa, un vero ragazzino. Poi Marina non è stata cacciata, questo volevo dirlo perché Marina si è andata spontaneamente quando c'è stato un po' di marasma, ma d'altronde il marasma c'è stato. E Marina non ha rubato niente a Angela perché le cose con Angela e il suo compagno ormai erano un po' trichetracco, come si dice a Genova, no? Quindi ne hanno fatto una grande cosa, ha rubato il marito, è venuto lo zio e gli ha dato una coltellata, il nonno gli ha buttato una finestra, una seggio in testa alla finestra, ma non è vero. Ma ragazzi facciamo un po' festeggiare i 50 anni della prima cosa bella e basta. La cosa che ci interessa di più è questa, aver ritrovato la nostra amicizia e poter essere qui a cantare di nuovo insieme, che per noi è una grande gioia. Ragazzi, oddio non ce n'è mai stato. C'è stata una disgregazione, come dicevo io, la vita ogni tanto ti dà un inciampo, caschi per terra, pensate a me che me ne ha dato uno qua a Sanremo di quelli più pesanti. Siamo qua senza avere un'unità, un'unità che sarà il caso o no, ma proprio per l'amicizia, per l'amicizia di ritrovarci insieme. Siamo partiti in quattro, dove vanno arrivare in quattro. Eccoci qua. Un palco molto emozionante che ci ha dato il successo e ritorniamo dopo 50 anni a riproporre alcune nostre canzoni, con la speranza di avere lo stesso successo e vogliamo condividerlo tutti insieme, anche con quelli che ci hanno aiutato ad arrivare qui fino a oggi, cominciando da Fabrizio De Andrè che ci ha scoperti, il secondo Califano che ci ha portato al successo, Edoardo Vianello che era socio di Califano, per arrivare fino ad oggi a Danilo Mancuso. Tutti. Grazie a Mogoli e a Nicola di Bari che ci hanno fatto fare la prima mortadella. La prima cosa bella. Mi piace tanto. È giusto perché siamo nati in quattro ed è giusto festeggiare questi 50 anni della prima cosa bella. È una gioia per noi risalire sul palco in quattro, veramente io sento sprigionare da loro e da me un'energia che mi auguro arrivi a tutta la platea, a tutte le persone che sono venute a sentirci. Allora il prezzo di pregiudizi di allora, allora non la vivevamo molto bene, ma siamo sempre andati avanti per la nostra strada. Quello che sta succedendo oggi è un po' di stupore nel vedere questo entusiasmo un po' di tutti che hanno in questa reunion e ci dà ancora più forza e più coraggio per andare a fare. Perché noi siamo entrati, secondo me, proprio nel... Scusami, siamo entrati talmente nelle famiglie ormai che ormai qualsiasi cosa facciamo, decidiamo di fare comunque nel bene, nel male, il benino o non benino. Forse il pubblico partecipa proprio intensamente perché siamo della famiglia, siamo gli zii, siamo i cugini, siamo parenti in poche parole e va bene, forse non voglio dire, ma quasi tutto. Sarà perché ti amo è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino se ci sto bene. Sarà perché ti amo che vola vola si sa, sempre più in alto si va e vola vola con me. Il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te.